Il finale di Endless Love, la SOP turca in onda su Canale 5, si preannuncia devastante per Nian, la protagonista che dovrà affrontare una perdita inimmaginabile, quella del suo amato Kemal. Questo evento segna un punto di non ritorno per lei, un momento in cui il dolore sembra insopportabile e il futuro appare oscuro e senza speranza. Nian è una donna forte, abituata ad affrontare le sfide della vita con determinazione e coraggio. Ma quando la morte di Kemal irrompe nella sua esistenza come un fulmine a ciel sereno, tutto cambia radicalmente. Kemal non era solo il suo grande amore, l'uomo con cui aveva condiviso sogni e progetti per il futuro. Era anche il padre della loro adorata figlia, Deniz, il pilastro su cui Nian aveva costruito la sua famiglia. Ora, in un istante, quel pilastro è crollato, lasciando Nian smarrita e senza punti di riferimento. La sua mente è un turbinio di pensieri oscuri e ricordi strazianti che le impediscono persino di immaginare un futuro senza Kemal. Ogni momento trascorso insieme, ogni sorriso, ogni abbraccio, si trasforma in un pugnale che le lacera il cuore. Nian si ritrova catapultata in un incubo dal quale non riesce a svegliarsi. La sua forza, quella stessa forza che l'aveva sempre sostenuta nei momenti difficili, sembra essersi dissolta come neve al sole. Si sente sola, persa, incapace di affrontare la realtà di una vita senza Kemal. Quando torna a casa, dopo aver assistito impotente alla tragedia che l'ha privata dell'uomo che amava, Nian si rifugia nella camera da letto, il luogo che custodiva i loro ricordi più intimi. È lì, sul pavimento freddo, che il dolore la sopraffà. Lacrime amare scendono copiose sulle sue guance, mentre il suo corpo è scosso da singhiozzi disperati. Vildan, la mamma di Nian, entra nella stanza nel tentativo di confortarla, di aiutarla a rialzarsi da quella spirale di dolore in cui sembra essere precipitata. Ma le sue parole, per quanto piene di affetto e preoccupazione, appaiono vuote e insignificanti di fronte alla vastità della sofferenza di Nian. La donna continua a piangere, incapace di trovare conforto anche nella presenza di Vildan. I ricordi del campo minato, del terribile agguato in cui Kemal ha perso la vita, si susseguono nella sua mente come una maledizione senza fine. Emir, il perfido nemico di Kemal, le appare come un fantasma che la perseguita, un incubo vivente che le ha strappato via la sua ragione di vita. Nian si sente sprofondare in un abisso senza fondo, incapace di vedere una via d'uscita a tanta disperazione. È in questo momento di totale smarrimento che una decisione estrema prende forma nella sua mente, porre fine a tutto quel dolore, a quella sofferenza che le sta lacerando l'anima. Con mani tremanti, Nian raccoglie una grossa dose di farmaci, il suo piano, per liberarsi definitivamente da quel tormento che le sta divorando il cuore. Ogni speranza sembra essersi spenta in lei, sostituita da un desiderio disperato di raggiungere Kemal, di ricongiungersi con l'uomo che ha amato più di ogni altra cosa al mondo. Ma proprio mentre sta per ingerire le pasticche che la porteranno via per sempre, una presenza inaspettata irrompe nella stanza. È Leila, con la piccola Denise tra le braccia, che entra nella camera da letto di Nian. Lo sguardo della donna si posa sulla bambina e in quel momento qualcosa in lei si risveglia. Denise, la loro bambina, il frutto dell'amore di Nian e Kemal, la luce che aveva illuminato la loro vita. Come aveva potuto dimenticarla in quel momento di disperazione? Come aveva potuto pensare di abbandonarla, di lasciarla sola in un mondo che improvvisamente le appariva ostile e crudele? Nian sente il peso di Denise, il suo calore, la sua innocenza, come un balsamo che lenisce la sua sofferenza. La bambina la guarda con i suoi grandi occhi pieni di amore, inconsapevole del dramma che sta sconvolgendo la vita della sua mamma. In quel momento Nian comprende che non può arrendersi, che deve trovare la forza di andare avanti, non solo per se stessa, ma anche per Denise. Con un gesto lento e deciso, Nian posa le pasticche sul comodino, rifiutando quella via di fuga che le aveva sembrato l'unica soluzione possibile. Abbraccia Denise, stringendola a sé come se fosse l'ancora che la tiene aggrappata alla vita e in quel momento giura a sé stessa e a Kemal che non si arrenderà, che lotterà per onorare la memoria del loro amore e per essere la madre che Denise merita. Le lacrime continuano a scendere, ma ora sono lacrime di determinazione, di coraggio, di una rinnovata volontà di vivere. Nian sa che il cammino verso la guarigione sarà lungo e doloroso, ma ha trovato la forza di affrontarlo, spinta dall'amore per sua figlia e dal desiderio di rendere orgoglioso Kemal, ovunque egli sia. In quel momento Nian comprende che il dolore non scompare, ma può essere trasformato in qualcosa di diverso, in una forza che la spinge ad andare avanti, a vivere pienamente per onorare la memoria di Kemal e per costruire un futuro luminoso per Denise. È una consapevolezza che le dà coraggio, che le fa sentire che, nonostante tutto, la vita vale ancora la pena di essere vissuta. Mentre Nian abbraccia Denise, stringe tra le dita un anello, l'anello di fidanzamento che Kemal le aveva regalato, simbolo di un amore eterno che nemmeno la morte può spezzare. È con quel ricordo nel cuore che Nian si rialza, determinata a percorrere il suo cammino, sapendo che Kemal sarà sempre al suo fianco, vegliando su di lei e su Denise dall'alto. Il dolore di Nian non svanirà in un istante, ma giorno dopo giorno, passo dopo passo, lei imparerà a conviverci, trasformandolo in una forza che la spingerà a vivere pienamente, a cogliere ogni occasione per essere felice e per rendere felice sua figlia. È una sfida immensa, ma Nian è una donna forte e con l'amore di Denise e il ricordo di Kemal a guidarla sa che ce la farà. La storia di Endless Love ci insegna quanto sia importante affrontare il dolore e trovare la forza per andare avanti, anche quando sembra impossibile. La lotta interiore di Nian rappresenta una battaglia universale contro la disperazione e l'oscurità che può invadere le nostre vite nei momenti più difficili. Mentre gli spettatori seguono il percorso emotivo di Nian, vengono coinvolti in una narrazione che esplora temi profondi come l'amore, la perdita e la resilienza. Ogni scena è carica di emozioni e colpi di scena che tengono alta l'attenzione del pubblico fino all'ultimo minuto. Il finale di Endless Love non è solo una conclusione tragica, è anche un messaggio potente sulla speranza e sul potere dell'amore. Nonostante le avversità, Nian trova la forza dentro di sé per continuare a vivere per Denise e onorare la memoria di Kemal. La sop turca riesce a catturare l'essenza delle emozioni umane in modo autentico e toccante. Gli spettatori sono invitati a riflettere su come le relazioni influenzino le nostre vite e su quanto sia fondamentale avere qualcuno accanto nei momenti bui. In conclusione, il finale di Endless Love rappresenta un viaggio attraverso il dolore e la redenzione. La storia di Nian è una testimonianza della forza interiore che ognuno può trovare anche nelle situazioni più disperate. Con l'amore della sua bambina come guida, Nian intraprende un nuovo cammino verso la guarigione e la speranza, dimostrando che anche nei momenti più bui c'è sempre una luce da seguire.